Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Ispore Galactic Adventures. Siamo nella fase civiltà con il nostro caro pianeta Tarantella e il nostro caro creaturigno Mozzo. E... cos'è questo? Eh, è bella. Ad avercire i due miei Aspore Crediti. Ah no, ne ho. Eh, cos'è quello di dire? Così sono felici? Con chi eravamo alleati? Ah, eravamo alleati con il liccio? Quelli sono normali. I verdi cos'è? Questi sono contenti. Questi sono normali. Ma Marcio si chiama? No, non volevo andare là! Vabbè. Questa è la nostra città, vero? Città madre delle madri. Allora, qua c'è già qualcuno che sta convertendo. I verdi? I verdi stanno sfasciando i blu. Questo è... Sì. Scusatemi ragazzi, ma c'ho un raffreddore cane in sti giorni. E quindi scusatemi assolutamente se ho la voce un po' nasale, ecco, e se ogni tanto mi dovrò soffrire il naso. Tipo adesso. Lo so, lo so, è fastidioso. Però, eh... È più fastidioso per me, quindi... GG. Eh... I'm sorry. Qua ci chiede più case. Signore, abbiamo bisogno di più case! Ah, c'è pure il compositore di Inni, sì, ma non me ne frega un case. Funghetti, cosa case mi serve con la roba là? No, mi serve niente! È più case, signore, abbiamo bisogno di più case! Va bene. Posso mettere un'altra casa? Ma non mi genera soldi, là. Potrei farmi la generale felicità, ma non genera un... Case. Facciamo così e posso mettere un'altra fabbrica? No, costa troppo. Eh! GG. Quanto costa? 1.200. Vabbè, così dovremmo riuscire a creare un po' di... Truppe... Delle spezie ce le abbiamo qua e abbiamo quella marina, se non sbaglio. No, non l'avevamo presa. Perché tu sei qua? Torna a casa tua! Vieni qua. Vieni qua. Ti ho detto di venire qua. Ah, forse perlò togliere la pausa. Togliamo la pausa, vieni qua. Ha ricevuto tutti gli ordini insieme, tipo... Che è successo? Tu dove sei? Non lo so, ma vieni qua. No, come faccio ad andare da lui? Ah no, è lui, forse. Ah, ah, lol. Sì, è probabile. Possiamo mettere la fabbrica che ci darà ancora più big money. Così però conviene. Perché così ci metto un'altra casa di lato che costa troppo. Gli intrattenimenti sono neutri, quindi direi che va bene. Fintanto che... Ma la casa... Scusa, quanto costa la casa? Ah no, 1.6. Posso metterla la casa? Così mi fa ancora più soldi. E poi ne metto un ancora... Posso metterla anche là, vero? Sì, se non fosse per... Cosa... Ah, questo fa il commercio. Fa il commerciante. Senti, tu prendi tutti i tizi e... Posizionali qua. Perché vedete non so dove sono? Ah, vedi, ce ne hanno anche alcuni in giro. Eh, birbantelli. Qua c'è la rotta commerciale. Non è spa, vero? Io girerei però la visuale, perché se no non ci capisco un Kaiser. Ecco, tipo, se vado così scendo e se vado così salgo. Oh, c'è un pannello comunicazione. Sentiamo cosa ci dicono. Ah, i gialli ce l'hanno con noi. I gialli sono rossi con noi. Chiedo scusa, ma non ho sentito bene. C'è un'interferenza qua. I ro... Porca miseria, i rossi sono là. Ma perché anche i marroni ce l'hanno con me adesso? Non ero leiato con i marroni... Con chi? Kaiser... Si vede che i marroni erano leiato con i rossi. Dove van, dove van, dove van? Oddio! Vorrei apri una botta commerciale. Sììììììììììììììììo. D'accordo, arrivederci, blu, per fortuna. Cosa vu... Ce l'avevo con noi rossi Questo cos'è? Difendete magari Addio bel bimbo Dove sono andate le mie barche? Si sono messe di seguire gli altri Dove sei? Ah sono andati là Ma l'hanno distrutto Non lo so Tornate qua a casa Di qua si può passare? No credo che ci sia il mare di mezzo Eh si c'è il mare di mezzo Cosa Kaiser posso fare se c'è il mare di mezzo? Niente Sarà anche pieno di torrette Questo lo posso guare Sta guarendo Perfetto Io allora andrei a mettere un'altra casa Così se non sbaglio fa altri soldi No No La fabbrica non mi fa altri soldi Potrei mettere un'altra fabbrica qua? Mi fa più 400 ma poi sono tristi Allora facciamo che metterla qua Ma si collega sempre sulla quella Riesco anche a metterci poi un intrattenimento? Ok sono felici così E produco 4 6 No 4 8 12 6 Se produco Sì 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 Mi piace posso mettere delle torrette anche Sì Oh No Lo volevo mettere sul serio Così abbiamo anche un lato abbastanza protetto Qui si stanno curando Sì Perfetto E i rossi io non so tanto cosa fargli perché non ho Ciao bello Ehm Abbiamo messo carini nella nostra nazione Ehm Abbiamo bisogno delle vostre forze Combatterete per noi? Quale città? Come si chiama? A Britanto È una cifra eccessiva Non abbiamo abbastanza soldi per pagarli Ma potremo averceli in futuro Turpea Posso parlare con Turpea che sono i miei amici Gigi Gio Ma posso andare ad attaccare i marroni però C'hanno una cosa qua sopra Appena Posso Innanzitutto facciamo un po' di difese Ecco Non mi hanno fregato le Le spezie Vero quei tizi? No Allora dobbiamo andare a picchiare magari i marroni Un attimo Visto che sono Incavolati con me C'hanno anche la popolazione incavolata Ehm Altra torretta Giusto per essere sicuri che non succedano casino Nel frattempo Ehm Dove? Qua? Ok Perché più in su non c'è niente Non riesco Posso spostarmi più in su? No No Non voglio spostare questo Voglio Muovere la visual Muovere la visual No No Più di così Non si capisce Non si muove Non si muove E vabbè Gigi Ehm Prendiamo questi qua E li mandiamo qua Ehm Converti città Si quale? Chi sono? Sono i marroni di sicuro Dove? Dove? Non li vedo Kaiser Ma è stup- Si sono i marroni Che macchine del Kaiser Tra l'altro che hanno Ma come è che- Ecco I miti si stanno andando la- A attaccare? Si Spero di si Ehm Faccio altre difese o- No Facciamo Degli altri veicoli e- Si sentite Ma voi se Ma ne aveva anche una rotta commerciale Con quetizio o no? Sbagliando Converti città Dai che ce la si fa Dai che ce la si fa Sto giro Eh c'ho oltre i 2000 Posso fare altri tizi Perché fanno dei fuchi d'artificio? Dai 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 che ce la si fa Dai che ce la si fa Dai che ce la si fa Oh ragazzi Tutti qua a convertire E' andata E' andata E' andata Si Sto giro ci va Di gran lunga meglio Di gran lunga ragazzi Siamo a due città e Abbiamo un'economia fiorente sulla prima Forse è andata male L'altro che ho rasciato un po' troppo Preso dalla fase diciamo Tribù Perché la fase Tribù È tantissimo E anche in questa in generale Però No io la farei religiosa Anche questa Però aspetta un attimo Devo andare al pianificatore città E vedere C'hanno un case Ah no ok Ha rimesso le mura Perfetto Allora io metterei Innanzitutto Delle case Ok Mi metterei Dell'intrattenimento Così che sono felice Un'altra casa Costa troppo Eh Sfasciati Yeah Date tutti qua Eh Voi No anche tu Ah non erano i rossi che ci hanno attaccato Sono i marroni Stupido che sono Eh Se la sono presa In your face Marroni In your face Eh GG Posso mettere un'altra industria di qua Credo Ce l'ho i soldi Sì Ah ma sono un po' i tristi Dove Ah no C'ho un case di spazio Da mettere un'altra industria È molto più piccola questa Eh Cosa ci metto allora qua Una casa Ci mettiamo una casa Ma non produce di più Poi mi aumenta di uno Le limite dei veicoli Sono più contenti Eh GG Sono felici Sono felici due Non ho abbastanza soldi per le torrette Però adesso Ci penseremo Do Ah ok Vanno ad attaccare quello Ma tanto anche se arrivo qua Glielo sfasciamo Mozzo Mozzo è sotto attacco Vabbè Guarda che te la sfascio subito Con la baradana là Posso fare altre torrette per Mozzo La me la mette? No Sì forse me la messa L'hai messa? Sì Posso metterla dall'altra parte No è l'ultimo posto credo Vabbè ma GG Meglio così Ok perfetto Ci è andata alla grande Abbiamo una città stradifesa E Perfetto Voi andate qua a riposarvi un attimo Poi adesso Mettiamo un'altra torretta E un'altra ancora Ce ne sta là Adesso produciamo abbastanza Quindi non ci dovrebbero essere troppi problemi Il fatto è che loro hanno più depositi di spezia Ma noi siamo più ricchi Quale è la mia città sotto attacco? Eh quale? Mozzo è sotto attacco? No Alberto Tom No Liccio si chiama questo Liccio? Che tra l'altro hanno sfasciato gli altri E' la mia alleata Sta città qua Pezzenti La Vai Così siamo difesi anche lato Ah qua ci sono già le torrette GG GG Mi piace I like that Fai un altro tizio Voi siete a posto? Se siete a posto andate a pigliare Dov'è il deposito di spezie qua? Crebio E' qua nascosto Nascosto? Dove l'hanno nascosto? Ah eccolo Andate a pigliare il deposito di spezie Io intanto vi faccio altri Tizi Qua stanno attaccando però eh Andate a difendere Perché è quello che commercio con noi Quello tra l'altro E La spezia l'abbiamo presa? Eh Andate a difendere Sono nostri alleati E ci immoleremo per loro Sì Moriremo tutti Per della gente che non conosciamo Sì Stanno sfasciando un po' tutto Ma noi stiamo mandando Unità a go go Proprio Quindi Direi che dovremmo riuscire a Tutelarli Almeno per Almeno da salvare la città Diciamo Più case Non ho abbastanza case Vabbè Ma guardate quanti cavolo di 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 tizi ho eh Così posso eliminarli Sì Tanto mi servono poi dopo Ora faccio due Veicoli terrestri Perfetto Oh Andavano dietro qua Ma non vi preoccupate Non vi preoccupate Più che altro Occupiamoci di quei tizi là Quale città è sotto Qua quella Baradana Allora voi Andate a prendere Questo deposito di spezie qua Vai qua Se voi distruggete Tutti quelli che potete Qua No ce l'han presa Pupazza E allora prendila Converti Ma là Ce l'han fatta No forse c'era qualcuno A difendere Ok Tutti voi Andate qua A convertire la città L'abbiamo fatta Sì Grandi ragazzi Una dopo l'altra La stiamo infilando Sti marroni Ha fatto la cavolata A dichiararci guerra Li abbiamo asfaltati Proprio C'è GG Abbiamo preso I nostri rileati Ma Cosa che era? Eh Religioso Però aspettate Che metto un ottimo In pausa Guardate quanti Sporecrediti Che abbiamo Quanti sporecrediti Una delle tue città È sotto attacco Sarà quella là Ma è GG Pianificatore della città Cos'è che Oh ricostruiscono le mura Yeah Allora mettiamo Innanzitutto Una fabbrica Che Tre spazi Ci sono solo Tribbio E se metto L'intrattenimento Mi Li fa giusti giusti Eh Pazzo Non ci sta tanto spazio Tanta roba Ma forse Per bilanciare Uno che è grande Così non è che È troppo P Ecco Come roba Ok Così è posto Voi Tutti Venite qua Ah e vabbè Adesso quando Metto Play Venite tutti qua Uno è Mi Stratore di spezia Questo qua È sotto attacco Eh lo so No arrivederci Adesso dobbiamo andare a massacrare i marroni una volta per tutte Partiamo adesso No c'è ancora qualcuno messo un po' male Ma loro non hanno più gente praticamente Allora prendiamo Posso selezionare No non posso selezionare così Se faccio tipo così No Poi devo aggiungerli uno per volta Ok E voi andate qua sotto alla loro Città madre Converti città Si è detto se si avvicina alle mie città ci muore Tipo A bestia Ah quella ha un fracco di difesa Non sarà poi così semplice Però ce la faremo ragazzi Ce la faremo Ce la faremo Cioè prendiamo quella città e poi Chiudiamo ecco Sfascia 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 Quanto sale di roba? Ah 210 Perfetto Andate qua sotto Sono straincavolati tra l'altro la gente Ah perché gli ho disabilitato la roba GG Posso fare Il bello adesso con tutti sti soldi E che se non possiamo fare altri veicoli Vuol dire che E perché ne abbiamo troppi Non perché non abbiamo soldi LOL Dai sto giro Sto giro siamo strapotenza Adesso magari distruggiamo tutto Facciamo tutti i aerei Credo che con tre città si può andare Con gli aerei direttamente Anche perché tre ce n'è in un'isola Non è che ti fanno fare la battaglia navale Così a caso Sì è andato ragazzi Yeah Tutte queste case avevano Ma erano tutti militari Ah no perché erano tutti marroni Ah ok adesso arriva l'aereo Hanno imparato adesso a usare gli aerei E quindi adesso esplode Vuol vedere No non esplode No per fortuna Religioso però aspetta vai in pausa un attimo Allora voi tutti andate qua Lo so lo farà dopo ma Pianificatore di città Cos'era tutto quello spazio Posso mettere un fracco di torrette No cos'era Posso mettere altre roba Una sola Che può essere Interattenimento O casa Forse conviene Però Io metterei questa E questo così Sì fa molti più soldi 1200 al minuto Ok GG Ah e ci sta ancora una torretta Ma hanno spazio per le torrette esaurite Però la difesa Non hanno la difesa al massimo Ma queste sono tutte A posto le torrette Non sono sfasciate Credo Ancora una delle mie città sotto attacco Quale città è sotto attacco? No perché ho fatto delle macchine? No scusate Posso eliminarli tutti? Cos'è? No Mi rida i soldi? Sì Oh Uh sì Ah devo creare Il pianificatore della città Allora Creiamo il nostro bellissimo aereo Che tanto lo sceglieremo A caso proprio Dai 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 Spariamo Di aerei E Allora vai qua Sporepedia Tutto Tutto Questo è carino Ho bisogno di quelli religiosi Però Più No numero Numero di non lo Titolo Creatore Salute Potenza religiosa Ecco 40 38 Sì questo Allora andiamo con questo GG Allora Mo Costano un po' E gli aerei Posso fare giusto 3 4 Con gli sporecrediti che ho E beh ma Vuola dire che aspetteremo Un attimino Ecco Quanti Me ne fa Gli sporecrediti Ogni tot Eh sì Aumentano in un fracco Veloce Gli sporecrediti Possono prendere Il deposito Di spezie qua No Ho bisogno Delle Delle Cosette Ma chi è che mi sta attaccando La miseria Continua a dirmi La tua città è sotto attacco Sei re La tua città è sotto attacco 5 No 6 Vabbè come prima cosa Ci sta Detto questo ragazzi Salviamo E sto giro Ci siamo ritirati su Un sacco Un sacco Sto video sta venendo Lunghissimo Cioè proprio Tipo Wuh La vita sul pianeta Tarantella è stata salvata Vi invito a lasciare un mi piace Se per caso vi è piaciuto Questo grandissimo Recupero Ecco diciamo E Niente Lasciate un commento Iscrivetevi Se volete restare Aggiornati E buon pomeriggio Ciao Ciao